Ciao amici! Benvenuti e bentornati a un nuovo episodio della nostra saga lirica, la creazione dell'opera San Giovanni Paolo II sui social a puntate. Fatemi un po' vedere chi c'è. Buongiorno, buongiorno per berlo! Buongiorno a voi! Io mi sono già preparata con il mio librino. Buongiorno Avocado, buongiorno Spandacin Cream, buongiorno Pino, buongiorno Nimula, buongiorno a tutti ragazzi! Bene, state entrando adesso, sono molto contenta. Io mi sono preparata anche questa volta, ma sono un po' più emozionata perché oggi mi tocca anche cantare. È bello dare vita a qualcosa che prima non ne aveva, cioè prima non era mai stato cantato da nessuno. Quindi, insomma, c'è una responsabilità. Tac! Aspetta che mi seguo. Quindi, oggi. Oggi è un giorno importante perché entriamo nella seconda parte dell'oratorio. Vi ricordo che le precedenti puntate le troverete o sul mio canale YouTube, oppure qui sul mio profilo Instagram, oppure ogni tanto anche sul profilo Facebook. Nell'episodio di oggi, quindi immaginatevi questa scena, il Papa si trova sulla soglia della Cappella Sistina. Un'esplosione di colori lo lascia attonito. Davanti a lui si spiega il libro della Genesi. Il libro, secondo le parole del Papa, aspettava il frutto della visione, la visione dell'immenso genio umano di Michelangelo. Entra, varca la soglia e rilegge il libro delle origini. Medita sul principio che sorge dall'inesistenza e sulla fine che affiora più intensamente. Traspare il giudizio, un finale giudizio. Ecco la via che attraversiamo, ognuno di noi. Queste sono le parole di Carol Boitigua, che medita su immagine e somiglianza, che è proprio l'aria che vi canterò adesso. Il testo è di Giovanni Paolo II, la musica è di Davide Alagna, l'orchestrazione e le basi musicali di Nicola Giusti. Andiamo? Potete vedere chi c'è? Ehi, Andrew! Ciao, meditazione! Ciao, maestro! Bene, vado! Ciao, Antonello! 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 Ecco qui! E anche un altro pezzettino di questa bella opera è nata oggi insieme a voi che ci seguite. Adesso vi leggo anche un pochino. Ciao, Antonello! Beh, la musica sì! Nicholas è ispirata e tu ne sai qualche cosa! Ciao, Arianna! Ciao, Andrew! È bello vedervi tutti qua. Soprattutto è bello cantare questa musica per voi e farla nascere. Noi adesso ci rivediamo giovedì alle 4 con un altro ospite e con un'altra puntata. della nostra opera San Giovanni Paolo II, The Social Opera. Ciao a tutti! Ciao!